sciare nel lazio si può sali in vetta a campo catino alle porte della regione ben 12 chilometri di piste e quattro impianti a 1900 metri di altitudine campo catino si raggiunge facilmente con la a1 uscita a nagni fiuggi poi direzione guarcino campo catino ad accogliervi alberghi e ristoranti a vostra disposizione scuole di sci anche per bambini e servizio noleggio attrezzature campo catino sciare a un'ora da casa